Diciamo che c'è molto rammarico ancora, nonostante sia mercoledì e già siamo proiettati alla prossima gara interna che è ugualmente difficile come quella di domenica scorsa e appunto perché forse non meritavamo di perdere, ci siamo mancati un po' di brillantezza davanti e gli episodi non ci hanno sicuramente favorito, anche un rigore su Bellini clamoroso che l'arbitro non ci ha dato quello era sia il rigore non altri rigori accampati da personaggi strani e quindi alla fine c'è molto rammarico, però noi dobbiamo trasformare questo rammarico e questa mancanza che abbiamo avuto perché io dico sempre che se si perde perdiamo noi e non sono certo gli eventi a farci perdere quindi dobbiamo trasformare questa delusione di domenica in rabbia positiva per questi 3-4 giorni che ci separano dalla gara e poi domenica cercare di portare in campo appunto questa voglia di rivalza perché questa partita secondo me ci ha lasciato proprio addosso questa un po' di frustrazione Infermeria, esce Rossetti, c'entra Zara Purtroppo Zara domenica poi è uscito ma c'aveva un piede molto gonfio, dolorante per ora pare che non ci siano complicazioni però difficilmente si potrà allenare questa settimana quindi vedremo da qui a domenica se in Estremis potremmo tentare un recupero con Miccoli che ancora non sarà a disposizione però rientra il capitano quindi magari qualche assenza fisiologica certo per noi abbiamo una rosa non così ampia già un'assenza ci crea degli scompensi e poi con l'incastro delle quote insomma fare la formazione diventa sempre non dico difficile ma insomma bisogna ragionare appunto sulle varie combinazioni e quindi non è un'assistenza di 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 un